bella raga dal vostro grande capitan napoli e benvenuti in questo nuovo video appena terminato l'anticipo del sabato dell'undicesima giornata di serie a tra crotoni la spezia una vera autentica sfida salvezza e bene terminato con la prima vittoria in questo campionato di serie a alla undicesima giornata per il crotone che batte 3 a 1 la spezia con vantaggio al settimo di junior messia su assi di molina parigi al diciottesimo nel primo tempo di diego frias nel secondo tempo al 49 bel gol di direcca su assi di molina e arriva il 3 1 al 56 di eduardo enrique su assist di pedro pereira nel finale arriva anche il 4 a 1 del crotone con doppietta di junior messias al sesto minuto di recupero se facciamo il video sto fatto negli ultimi secondi di recupero quindi doppietta di messias e quindi il crotone batte 4 a 1 la spezia con doppietta di giù di junior messias e gol di recca e gol di eduardo enrique in virtù di questa prima vittoria sale il crotone da due a ben cinque punti quindi prima vittoria vittoria secondo me dal mio punto di vista meritatissimissima del crotone più c'è stato un primo tempo forse un po più equilibrato perché dopo il vantaggio di junior messia associato a una buona reazione di diego frias che ha fatto il colore dell'1 a 1 in un primo tempo abbastanza equilibrato nel secondo tempo ha dominato largamente il crotone ha dominato largamente il crotone e ha strameritato questo è il complimento al crotone per questo prima vi trovi serie a mettete un bel like a questo video chi non sei ancora iscritto al mio canale iscrivetevi iscrivetevi al mio canale una buona sera che è il vostro grande capitan napoli ciao